Le storie sono la tua passione, i libri sono il tuo mondo e forse hai già scritto qualcosa di tuo. Il mio esordio è l'iniziativa che fa per te, nata proprio per premiare la tua creatività e le tue idee. Vai sul sito ilmiolibro.it e partecipa anche tu all'iniziativa di Gruppo Espresso dedicata alla narrativa e alle poesie, ai saggi e alle idee, ai fumetti e ai libri illustrati. Iscriviti gratis, mettiti in gioco con il tuo libro e fatti leggere dalla community. Leggi gratis, supporta i libri in gara e scrivi le tue recensioni. Confrontati con editor e altri appassionati come te e crea il tuo network di contatti. Il mio esordio, il concorso che premia il talento.